ciao a tutti ed eccoci alla sesta riflessione ad alta voce oggi di che cosa parleremo oggi parleremo della dualità tutta la nostra vita è duale tutta la vita è contraddistinta da estremi contrapposti se immaginiamo anche la nostra respirazione c'è un momento di massima espansione c'è un momento di massima contrazione il nostro cuore pulsa esiste il giorno esiste la notte esiste il buio esiste la luce e anche noi su questo piano nel quale viviamo siamo stati programmati per vivere la dualità e ovviamente per arrivare a consapevolizzare e a riconoscere accettare a vivere invece sul piano dell'unità vivendo però materialmente sul piano della dualità se pensiamo anche al nostro al nostro corpo cioè prendiamo esempi logici dal nostro corpo noi abbiamo un cervello che è diviso in due parti completamente uguali ma con due funzioni contrapposte la parte destra che è la parte emozionale la parte creativa e la parte sinistra invece che la parte razionale la parte logica però abbiamo bisogno di tutte e due le parti che tutte le due le parti siano connesse e funzioni contemporaneamente perché altrimenti ci troveremo sempre a lottare tra la logica e l'emozione io incontro tante persone anche io a volte sono stato diciamo dipendente da questi da queste credenze persone che pensano di essere troppo logici perché grazie alla logica pensano di riuscire a proteggersi dal dolore e dalle preoccupazioni o persone che invece pensano di essere troppo emotivi per questo motivo magari soffrire ed essere in preda a preoccupazione oppure che le persone se ne approfittino di loro quindi si incomincia a dire forse è meglio che sia più logico forse è meglio che sia più emotivo mi sento più rigido mi sento troppo morbido e ovviamente ogni volta che c'è un contrasto nasce un conflitto ed ogni conflitto impedisce la libera evoluzione dell'essere umano anche l'altro giorno abbiamo parlato di dualità abbiamo parlato di giusto e sbagliato siamo abituati a giudicare sulla base delle nostre esperienze sulla base delle nostre credenze e a volte anche sulla base delle credenze delle altre persone che ciò che facciamo può essere giusto può essere sbagliato ciò che fanno gli altri può essere giusto può essere sbagliato e alla fine se facciamo un ragionamento tutto è utile sia le cose che riteniamo giuste sia le cose che riteniamo sbagliate per lo stesso motivo possiamo vivere emozioni piacevoli o possiamo vivere emozioni non piacevoli ma alla fine la verità è che stiamo vivendo emozioni è importante osservarle, è importante riconoscerle, è importante accettarle per poi trasformarle per trasformarle ovviamente bisogna uscire dal piano duale e consapevolizzare e credere profondamente che tutto è utile ed ogni emozione porta con sé è un'esperienza è un'opportunità di trasformazione anche nella nella vita quante quante volte siamo stati siamo stati divisi dalle situazioni ma soprattutto divisi dal nostro pensiero dal nostro istinto dal nostro intuito o dalla nostra ragione si dice che la quando ci facciamo la domanda la prima risposta sia quella più più utile non sempre però è la risposta più semplice da mettere in pratica però forse effettivamente la nostra anima la nostra essenza il nostro inconscio ci sta indicando qual è la strada che è importante percorrere per evolvere per trasformare ogni ogni esperienza quindi se in questo momento stai vivendo un conflitto tra giusto sbagliato tra logico ed emotivo ricordati che sono i lati opposti della stessa moneta quindi esistono contemporaneamente questo ti porterà ad avere più serenità più consapevolezza e più responsabilità dei tuoi pensieri delle tue emozioni di conseguenza delle tue azioni e di conseguenza ancora la somma delle azioni sappiamo che che danno i risultati quindi cerca di di lottare di meno cerca di di non rassegnarti cerca di accettare perché è la via di mezzo quella che ci permette di evolvere liberamente e di raggiungere la felicità la pace e la libertà interiore che ci permettono poi di raggiungere manifestare la pace la libertà e la felicità esteriore vi auguro una splendida giornata vi abbraccio e ci vediamo alla prossima riflessione ad alta voce ciao a tutti e a prestissimo